E' uno dei capolavori più epici e tenebrosi di Giuseppe Verdi. Il Don Carlos ha aperto la nuova stagione all'Opera Bastille di Parigi. Il famosissimo tenore Jonas Kaufmann interpreta Don Carlos e la soprano Sonia Ionceva si esibisce come il suo amore incompiuto Elisabetta. L'amore, l'idealismo politico, il tradimento e l'intrigo nella Spagna del XVI secolo sono al centro della trama. Amo questa enorme storia d'amore tra lei e Don Carlos. Questa tentazione, questa passione che si impossessa di entrambi e l'impossibilità di realizzarla. Per celebrare il centocinquantesimo anniversario della prima opera parigina, il capolavoro è stato inscenato nella sua versione originale in francese. Verdi ha elaborato la partitura attraverso due decenni, ma oggi è meglio conosciuta nella versione italiana. I personaggi cambiano in francese, sono forse un po' più morbidi, quasi ho la sensazione che siano diventati meno drammatici, ma solo per la lingua francese, il che rende le cose un po' più delicate rispetto al corposo italiano. Questa aria è magnifica. È un momento in cui riflette, un momento intimo per Elisabeth. È un ruolo lirico, pieno di tanti colori. Verdi ha concepito la sua epica opera in cinque atti su una sonata di Friedrich Schiller. Anche se denominato Don Carlos, l'eroe del titolo manca di grandi assoli per il rammarico di Kaufman. Cosa avrei potuto dire a Verdi se avessi partecipato alla prima 150 anni fa? È interessante perché Verdi aveva inizialmente voluto comporre una grande aria per Don Carlos nel quinto atto, ma quando incontrò il tenore era veramente scontento e cambiò in corso d'opera, scrivendo un'aria per Elisabeth. Beh, gli avrei detto, scrivi un'aria per il tenore, del resto l'opera si chiama Don Carlos. Questo duetto con Don Carlos è assolutamente sublime, una musica di grande umanità. Si ha quasi la sensazione che Verdi abbia trovato un modo per squarciare il cielo e si possano vedere le scale che portano su. Entrambi sanno che può finire solo con la morte. Grazie. 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 Grazie a tutti.